nostalgici un uomo russo abitava ormai da tanti anni in italia in un piccolo appartamento alla periferia di bologna a dire il vero il quartiere era squallido parecchio e i vicini gente maleducata alla quale interessava forse solo il calcio o la televisione una mattina con la nebbia che ancora avvolgeva il mondo aprì la finestra e con l'ultima speranza o nostalgia di qualcosa che lo unisse ad altri uomini o alle altre donne si mise a sventolare un vecchio accappatoio rosso come fosse una bandiera non tutti lo capiva avrebbero apprezzato ma senza dubbio qualcuno pensava avrebbe risposto in verità nessuno se ne accorse tranne un vecchio signore del quinto piano che affacciato anche lui a quell'ora reagì al saluto agitando un paio di mutande nere con evidente simpatia piuttosto che con spirito di di valsa